biancamente dorato e il cielo dove sui cornicioni corrono angeli dalle dolci mammelle guerrieri saraceni e asini dotti con le ricche gorgere lecce è un carnevale di pietra che simula mille guise l'infinito io penso che mai come in questo periodo gli italiani stiano scoprendo quanto sia bello il loro paese e quante straordinarie città racchiudano bellezze storico monumentale archeologico paesaggistiche tra queste c'è lecce il centro storico di Lecce è qualcosa di meraviglioso e inattenduto che ci siamo noi siamo alla fine dell'italia cioè dopo di qua da questo lato non c'è più niente è come se fosse la porticina che porta al paese delle meraviglie Alice decide di diventare piccola attraversarla ci può essere un incubo può essere un sogno di base c'è una percezione del sublime molto forte quando decidi di aprire quella porticina che per me porta a lecce la spirale di orra rappresenta un grandissimo riconoscimento per la città di lecce si poteva tenere in qualunque altra città del mondo data l'importanza della maison e se qui significa si è stati scelti tra tanti per la ricchezza anche delle tante abilità artigianali salento non è soltanto la bellezza del proprio paesaggio ma anche la il talento della propria gente io ho una mia teoria che secondo me è suffragata proprio dalle prove in mezzo ad ogni evento particolare c'è sempre un salentino secondo me tipo amstrong sulla luna aveva un parente salentino e anche la sfilata di dior è legata ad una salentina che ha voluto fortemente portarla qui perché c'è un altro elemento che secondo me altri non hanno è il legame fortissimo il richiamo pensare che si faccia una mostra o una esposizione di moda accanto al duomo forse qualcuno avrà pure da ridire ma confesso con molta semplicità che proprio per il momento che noi stiamo attraversando c'è bisogno di cultura e di speranza per la gente nella contemplazione del bello della bellezza può sembrare solo la definizione di un esteta ma la bellezza è un dono di dio lente è uno vero buono e bello se c'è un conseil a donna c'è découvrir cette vie d'une fois dans sa vie on dit voir nappe e morire moi je dirais voir lecce e morire mi piace Grazie a tutti